bella raga momento di play questo nuovo video oggi c'è un nuovo video di tops a grande richiesta abbiamo il ritorno di tops con 10 pacchetti e i top player scorsi che abbiamo trovato forti sono mertens icardi e leonel messi a prima di iniziare saluto a francesco e silvestri ciao raga vi ricordo che sono 10 speriamo di trovare il nemico di messi ronaldo e quindi raga vi lascio qua sopra il link per andare a vedere il box e lo starter pack e iniziamo vediamo se è top ok abbiamo il primo top player nel primo pacchetto ok top player 6 la prima squadra non mi ricordo quale sia però vabbè iniziamo ok abbiamo una del napoli nell'aix jacques zarsakovec e di maria che già c'ho vediamo il top player numero 6 che è dai raga e abbiamo trovato leonel messi ce l'abbiamo doppia ma comunque sempre un grande giocatore se in questo episodio non troviamo ronaldo che lo vuole cambiare con ronaldo io lo do andiamo con l'altro pacchetto non ce lo spoileriamo quindi andiamo da sotto così non ci spoileriamo se abbiamo il top numero 101 andiamo ovviamente a lasciarlo là qui abbiamo un 106 quindi se vediamo chi è lui possiamo capire chi è il top player raga abbiamo sanchez che qua è sporchissimo non capisco perché mangio che c'è della yugo che già c'ho poi buffon buffon che è 311 poi stromboli che è 106 quindi è di questa squadra infatti out top player scoprite la squadra di questo giocatore e io non lo dico scopritelo nei commenti vediamo che cos'è questo ok non c'è tutto il top player cattiverio cattiverio pesante 64 e miranda italiana stemma della roma stemma della roma stemma della roma andiamo a mettere qua poi ali e vista anzi abbiamo un'altra che è neto ti ricordi quando ero nella juve ti ricordi quando ero nella juve ho visto la fascia di la fascia proprio io però la faccia di shesny che è il numero 235 253 no probabilmente è uno della squadra italiana no non lo so vabbè shesny l'avevo detto braimi kingamp poi abbiamo il top player 253 che è metto oh tutti tutti comunque mertens top player sempre forte vi ripeto chi lo vuole scambiare con piacere ok altro pacchetto ancora top player oh che fortuna più top player qua che più top player nel box ok top player 25 andiamo a mettere qua ok ok giriamo in zonzi clomettei seranno e me martins andare qua ok altro top player numero 25 non ci credo ok grisman dell'atletico ancora doppione boh beh abbiamo un altro pacchetto questa volta sono e normali clurivet maglietta dall'inter che ancora oh poi farfan mendy nabu kain ok eppure questo pacchetto non abbiamo trovato top player quindi andiamo adesso subito all'altro che è top player no no troppo 82 andiamo a mettere qua ok quindi giriamo abbiamo douglas costa grandi seer diallo nagatomo nagatomo vabbè vediamo il top player numero 82 un altro doppione vediamo cos'è questo ok il top player ok perotti la mela brenet neymar neymar dai neymar buono vediamo chi è ok un altro top player non lo vuoi qui abbiamo il top player 215 andiamo a girare abbiamo Vossen Ferreira Lopez Savic e vediamo il top player numero 215 Salah momo salah momo salah momo salah finalmente uno che non c'avevo forte momo salah finalmente un top player decente che non c'ho abbiamo trovato messi doppioni penso fosse il più difficile uno dei più difficili da trovare abbiamo trovato doppi come momo salah c'è sempre ok l'ultimo pacchetto non me lo spoilerò abbiamo l'etica barino klilich coche e adesso vediamo il top player 120 che è un altro doppione da andare a mettere qua adesso facciamo questi qua sono tutti i top player che ho trovato Farfan Lewandowski Gomis Falcao Aguero Griezmann Karamich e pensate che sono tutti i doppioni perchè poi qua ne ho altri tre e sono messi Mertens e Cardi qui abbiamo Kramatic momo salah Lewandowski Griezmann Mertens e Lino due poi 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 altri due poi due 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 e due poi Mertens e l'altro Mertens e basta quindi questi qua sono tutti i top player doppioni che ho quindi raga se li volete scambiare con qualcuno che non ho però ve li do e dato che qua siamo trovando parecchi doppioni qua sopra vi lascio un sondaggio dove potete scegliere se continuare la la Champions League top oppure continuare più vederci cinque panini quindi raga se avete è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un like condividete e noi ci vediamo domani prossimo video ciao